ancora tira finalmente gol preferite questo mio faccione oppure questo mio altro faccione cartoonizzato allora oggi facciamo una draft seria in attesa dell'uscita di ea sport fc 24 siamo tutti trepidanti tra pochi giorni uscirà ci saranno grandi novità ma siccome facciamo la draft seria oggi usiamo la faccia seria come modulo 442 in linea il mio record di valutazione complessiva è 123 lo voglio superare bear camp ottimo ma gullit è meglio però non ho l'hat non ce l'ho l'hat o ce l'ho beh prendo gulli no non ce l'avevo messo un attacco un attaccante che non mi serve insomma dai riproviamo andrà meglio ora ok alla benissimo scelta obbligata 97 adesso facciamole subito l'esterno sinistro il migliore qui sembra essere coman però alan gioca in premier league coman gioca nella bundesliga non hanno molta intesa non so se preferire l'intesa o preferire la valutazione scegliamo lungeberg che gioca in premier league centrocampista lampard inevitabilmente altro centrocampista orribile questo spacchettamento esterno destro anche questo niente di che allora per chi si fosse chiesto dove cristian oggi in questo video cristian non c'è sto facendo questo video sperimentale da solo per studiare delle statistiche di youtube che magari più avanti vi spiegherò intanto andiamo avanti con il terzino destro russion gioca in germania bundesliga avrei dovuto prendere prima quell'altro coman invece no mi sono buttato sulla premier league andiamo con alexander sempre in premier league beh in finale di fifa 23 quando ormai fifa 23 e agli sgoccioli non escono più delle belle carte sulle drafte dobbiamo dircelo è con tutta verità continuo a scegliere giocatori della premier league con overall non troppo alto terzino sinistro e prendo zinchenko sempre per lo stesso motivo che sono orientato alla premier league avrò un'intesa alta ma una valutazione overall niente di che diciamo vado con navas stesso ragionamento veramente brutti questi qui veramente brutti di male in peggio non escono più quelle belle draft di una volta di metà stagione continuano uscirmi quelle della bundesliga avessi puntato sulla bundesliga avrei fatto un affare vabbè non c'è niente della premier league prendiamo lui della bundesliga altri della bundesliga prendiamo fekira anche se non c'entra niente gioca in francia no in spagna ma è francese tolisso invece gioca in francia a un 92 di overall ma io prendo joa canselo almeno lo metto in centrocampo al posto di keita che era veramente scarso un cuncu ancora bundesliga germania io devo cambiare l'attaccante prendo averts lo metto al posto di gullit che è fuori ruolo in questo contesto vabbè questo neanche da commentare andiamo con le riserve prendo suso anche se è il più scarso ma tanto non lo uso quella carta qui si inizia a ragionare qualcosina ancora angelino che gioca in bundesliga ho sbagliato tutto prendo la mela così ma non mi piace non sono per niente soddisfatto ancora wimmer sempre in bundesliga dovevo fare speciale bundesliga avrei fatto meglio prendo romarigno però così tanto ormai siamo alla fine guardiamo questi e credo che la rifacciamo e la rifacciamo vabbè the best tanto non ho il ruolo di ad non mi è servuto a niente servuto idrisi ragazzi scarsissima questa prima draft vediamo il riepilogo 119 l'unico giocatore buono e alland insieme a lampard però come dicevo prima non sono soddisfatto la ripetiamo io volevo superare il 123 di valutazione finale quittiamo la partita ricominciamo ma proviamo a vedere se la faccia cartonizzata mi porta fortuna scegliamo il modulo 4 1 2 1 2 largo è più lungo da dire che da fare e vediamo se siamo più fortunati non mi sembra tanto buona questa spacchettata proviamo con la bundesliga visto che prima sarebbe stata un'ottima scelta allora l'attaccante garrincia 98 c'è anche pogba però garrincia è un'icona ovvero l'altissimo sicuramente fa 3 di intesa lo scegliamo senza dubbio o qui buonissimo miller che sia questo faccione che porta fortuna almeno fino adesso ma calmi perché chi si loda si imbroda esterno sinistro e infatti e infatti qui siamo calati come qualità voi voda del torino esterno destro giomario che a 92 di overall frankowski o sané sané gioca in bundesliga farebbe intesa con quello lì c o c frankowski anche fa buona intesa a perché una carta speciale ha sempre tre punti di intesa questo è da non sottovalutare gioan mario invece non fa intesa con niente prendiamo frankowski che anche quello con l'overall più alto ora scegliamo il c dc centrocampista difensore centrale dovrebbe essere questa cosa qua tu re sicuro e sono sicuro anche che questa è una carta speciale con tre punti di intesa fissi e stiamo andando bene faccione ok davis vediamo se carta speciale no non è carta speciale però gioca in bundesliga è l'overall più alto del pacchetto prendiamolo poi vediamo dopo cosa farne terzino destro ok za carta speciale esattamente tre punti di intesa assicurati 93 l'overall più alto del pacchetto ci siamo stiamo andando bene qua malissimo prendo star proprio perché è della bundesliga ma dobbiamo sicuramente cambiarlo poi vediamo qua cosa ci esce ragazzi lucio carta speciale ok ed è della bundesliga scelta obbligata lucio qui non stiamo sbagliando un colpo siamo affidati totalmente alla fortuna kobe gioca in bundesliga il portiere 92 prendo lui l'intesa non è a 33 perché abbiamo questo giocatore voi vova del torino che non c'entra niente in questa rosa lo dobbiamo cambiare ci serve un esterno sinistro più adeguato alla nostra formazione titolari non è questo il caso vediamo qua cosa è uscito ragioniamo un attimo sono tutti giocatori della spagna dell'italia e della francia però questo qui carta speciale ed erminitao in difensore e mi serviva un difensore però brasiliano che gioca in spagna non è proprio adatto alla mia formazione prendiamolo ugualmente e vediamo come prosegue questo spacchettamento su forza dai cap de villa ok prendo lui provo a inserirlo al posto di davis l'intesa sale di più uno quindi lo metto nuovo pacchetto nuovo spacchettamento abbiamo martinelli che è un buon giocatore è un esterno sinistro ma non è l'esterno sinistro che serviva a noi peggio ancora galeno sempre esterno sinistro ma non ci serve prendo per disperazione martinelli provo a inserirlo al posto di voi vova vediamo cosa succede però l'intesa sale di più tre pazzesco siamo a 32 di intesa su 33 chi è il giocatore ha il portiere il portiere che gli manca un punticino di intesa e allora apriamo un nuovo pacchetto e vediamo cosa troviamo se possiamo aggiustare la squadra prendo coman esterno sinistro ci serviva anche se l'avamo già sostituito con martinelli però probabilmente coman che gioca in bundesliga come il nostro portiere cobel potrebbe essere più utile alla squadra proviamo subito inserirlo perché siamo curiosi di vedere cosa succede l'intesa scende a meno uno con coman quindi lo lasciamo lì o abbiamo ronaldo attaccante 97 lo prendiamo sicuramente e lo inseriamo lassù al posto di muller e dovremmo guadagnarci un po in valutazione dal 94 di ovvero il passiamo a 97 sul singolo giocatore ovviamente un cuncu non ci serve perché è un at e non abbiamo un ruolo lo prendo lo stesso lo lascerò lì in panchina proseguiamo oh abbiamo puskas che però è un at non sappiamo dove inserirlo lo prendo sperando che serva qualcosa nel misurare la valutazione lo metto subito in panchina al posto di olsen non succede nulla e quindi noi apriamo un nuovo pacchetto il migliore qui sarà però in premier league non ce ne facciamo nulla prendiamolo e lasciamolo lì neanche a parlarne o benze ma peccato che benze ma in questa carta a ruolo at noi non abbiamo un ruolo ma lo prendo lo stesso non lascio in panchina con un 99 di overall vediamo se cambia qualcosa metto benze ma al posto di voi voda cambia nulla ma lasciamolo lì ultimo pacchetto di questa draft che è abbastanza buona pacchetto scarso però c'è messi anche lì un at che non posso inserirlo lo prendo abbiamo però 94 di valutazione prima era 93 mi ricordo quindi la valutazione sale anche con i panchinari mettiamo in panchina tutti quelli più alti di overall messi al posto di coman ci serve un allenatore svizzero che alleni in germania e magari l'intesa la facciamo piena vediamo se siamo fortunati faccione con questo faccione abbiamo detto svizzero che allena in bundesliga non c'è nello svizzero nella bundesliga prima categoria c'è questo qua io ora non mi ricordo il portiere di che nazionalità era da qui non si vede sì si vede non si vede no non si riesce a vedere il mio portiere chi era vabbè prendo lui vediamo cosa succede wow 126 record personale superato valutazione rosa complessiva della mia draft forse l'ultima draft di fifa 23 per quest'anno e 126 se conoscete qualcuno che ha fatto una squadra migliore fatemelo sapere ditemi dove trovare il video lo vado a guardare ma penso sia molto difficile questo è il record assoluto per dilettarci ancora un po per chi ha voglia proviamo la squadra in partita perché è una squadra veramente forte poche volte ho vinto la draft online questa volta mi sento di riuscire a battere l'avversario vediamo chi ci tocca ovviamente io con la divisa della juventus ok abbiamo una squadra mediocre di forte loro hanno griezmann in attacco che però è fuori ruolo hanno pelè come centrocampista offensivo l'unico da terra nella bada è pelè ok ci siamo ecco la nostra squadra perfetto prendo subito la palla e inizio a controllare il gioco ronaldo quello che ha 97 di overall tira ronaldo e para 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 allison ragazzi voglio togliere solo la telecronaca perché mi dà fastidio voglio concentrarmi al massimo calcio d'angolo battuto prendo la palla no vengo bloccato su un calcio d'angolo un errore imperdonabile imperdonabile ok intercetto la palla ma me la rubano ok ci siamo di nuovo martinelli za non ricordavo di avere za frankoschi si un tiro micida della lunga distanza e allison ancora salva la sua porta ed è rigore ed è rigore per noi fregato ingannato il portiere 1-0 per la nostra squadra stiamo andando bene qui non si tratta più di fortuna ma di bravura ronaldo segna il primo punto per la juventus e beh avere una juventus con questi giocatori non sarebbe male ragazzi almeno per i tifosi della juventus un po' meno contenti sarebbero i tifosi del napoli mamma mia ragazzi mi hanno mi hanno fregato e proprio con pelè prova il pareggio al diciannovesimo del primo tempo tutto da rifare proviamo il pallonetto ma sbaglio la mira ehi no no che succede l'avversario ha chiesto pausa intanto diamo lo sguardo ai miei giocatori sembrano tutti rilassati pieni di energia sarei tentato di mettere benzema in attacco ma l'attacco ce l'ho già buono per adesso rimaniamo così tra un po' inseriremo benzema al posto di ritchien entra del piero nella squadra avversaria provo della lunga distanza sbaglio ancora la mira rancoschi entra in area cerca spazio viene pressato retropassaggio vazzà resisto tento il tiro botta di tiro botta ancora niente recupero la palla nell'area della nostra difesa tento di entrare in zona pericolosa per loro ovviamente niente da fare ancora tira finalmente gol ritorniamo in vantaggio al 45esimo passato già al primo minuto del recupero del primo tempo e la partita si chiude qui sulla prima frazione sui primi 45 minuti abbiamo detto di far entrare benzema al posto di rickhand però l'avversario quitta l'avversario quitta e mi regala la vittoria a questo punto ragazzi si è spaventato ha avuto paura della nostra squadra ha deciso di quittare dopo solo un gol di differenza eravamo 2 a 1 abbiamo vinto dai grazie a tutti lasciate un like per questo video e fatemi sapere se vi piace questo faccione cartonizzato oppure questo che è quello normale ciao